La musica sacra si fa protagonista questa domenica, 24 novembre, con la Festa Diocesana dei Cori, iniziativa promossa dalla Commissione Diocesana per la musica sacra, recentemente rinnovata dal Vescovo Andrea. La giornata, pensata per tutti coloro che animano le celebrazioni domenicali nelle parrocchie della Diocesi, sarà un'occasione di incontro, crescita spirituale e scambio di esperienze. L'evento si terrà nel pomeriggio presso il Seminario di Arezzo e culminerà con la celebrazione eucaristica nella Cattedrale. Il programma dettagliato prevede alle 14.30 l'accoglienza in seminario e il saluto iniziale del Vescovo Andrea. Quindi un incontro di formazione condotto da Sor Miriam Manca, direttrice dell'Ufficio Liturgico Diocesano, e Don Alessandro Bivignani, presidente della Commissione Diocesana per la musica sacra. A seguire, dibattito e condivisione di esperienze tra i partecipanti, dopo le quali si svolgeranno le prove di canto e la preparazione della celebrazione eucaristica prevista alle 18 in Cattedrale. L'iniziativa si conclude con un momento di festa presso il Seminario di Arezzo. L'invito è rivolto a tutti i cori parrocchiali, cantori, musicisti, animatori musicali e chiunque offre il proprio servizio musicale durante le celebrazioni liturgiche.